Candelora 2020, Montevergine si prepara all'accoglienza. Pellegrini da tutta la campagna si ritroveranno prima ai piedi e poi in vetta al Monte Partenio. La speranza degli operatori del turismo è di un pienone che possa rilanciare in questi giorni anche il commercio. La funicolare si prepara agli straordinari in caso di necessità. Quanto e come l'Irpinia punta su questo richiamo, come si organizza per l'accoglienza. Sarà uno dei temi della prossima puntata di Rai. Dal centro ci sarà la candelora tra sacro e profano. La luce al di là di tutto segna da sempre un metaforico passaggio dal buio dell'inverno alla stagione primaverile per la chiesa e il giorno della presentazione di Gesù Bambino al Tempio. Nello stesso giorno, il quarantesimo dopo Natale, la purificazione della Vergine per la credenza della donna impura dopo il parto. La benedizione delle candele è il simbolo di Cristo luce delle genti e tra gli archivi di Montevergine. Documenti storici testimoniano l'acquisto di grosse partite di candele da parte dei monaci che si preparavano così all'accoglienza. Altre testimonianze riguardano i madrigali da suonare in chiesa il giorno della funzione. La musica popolare sarà un altro dei grandi temi legati alla candelora. Paranze e Tammurre non mancano a scandire il passaggio tra le stagioni. Storicamente poi il giorno della candelora coincide anche con la visita che rende omaggio alla madonna protettrice da parte dei femminielli. Nel 2002 la cacciata dal Tempio segnò l'inizio di una pacifica rivendicazione dei diritti da parte della rete LGBT. Anche quest'anno candelora significherà stop all'omofobia, razzismo e bullismo, più in generale stop alle intolleranze, un'aiuta per la libertà. Anche di questo discuteremo a ride con esperti, antropologi, sindaci, giovedì in diretta a partire dalle 21.